Il MoVimento Liberatorio Politico Stasera il Liberatorio fa una sorta di report finale del lavoro svolto negli ultimi tre anni e come potete leggere dal manifesto che è una sorta di contraltare del manifesto che il sindaco Assolini ha messo in città questi giorni con una grande fotografia del porto con la dicitura dedicata ai nostri figli. Noi abbiamo aggiunto bolle, balle e bombe perché molto probabilmente molti cittadini non conoscono la verità su quello che sta accadendo sia nel porto che a Torre Gavettone. Il porto ormai è bloccato perché la draga Machiavelli ha fatto il suo lavoro e non poteva fare altro, è andata via e due giorni fa anche un'altra motonave ha portato via tutti i ponteggi e le attrezzature che sono servite per il dragaggio di seconda fase, per il riempimento della colmata che è stata fatta all'inizio della parte iniziale della diga Salvucci. Ma tutto il resto sarà bloccato perché a causa delle migliaia di bombe presenti all'imboccatura del porto e anche nella seconda zona dove è previsto un altro dragaggio non si potrà fare null'altro che attendere la bonifica, molto probabilmente non prima del 2014-2015. Quindi tutto ciò che a mo' di propaganda il sindaco sta dicendo e facendo per far credere ai cittadini che il porto si farà a breve noi diciamo che è una grande bugia e quindi balla e balla. Per quanto riguarda le bolle abbiamo due interpretazioni, le bolle sono quelle delle bombe che veramente in porto e in altre zone fanno ribollire l'acqua e le bolle che da qualche anno compaiono sulle mani e sul corpo dei nostri pescatori ma non solo i pescatori perché molti cittadini, specialmente quelli frequentanti la zona del Torre Gavettone hanno avuto problemi non solo respiratori ma anche dermatiti e altri problemi che riguardano la pelle. Per quanto riguarda Torre Gavettone così come vedete nel manifesto noi abbiamo riportato un divieto che è apparso il primo agosto di quest'anno dopo una serie di denunce che noi abbiamo fatto alla Procura della Repubblica e anche dopo l'arrivo di Goletta Verde a Molfetta che abbiamo svelato alcuni segreti perché di segreti militari si tratta e cioè nella parte che riguarda il Torre Gavettone ci sono delle zone in cui sono state cementate alcune bombe di cui non sappiamo se si tratti di bombe convenzionali ma bombe chimiche ma chi ha detto i lavori molto probabilmente ci ha suggerito che potrebbero essere bombe chimiche perché quelle non si possono rimuovere nel caso ci siano delle crepe o delle origini diciamo all'inizio di crepe all'interno della custodia metallica, dell'ogiva metallica. Quindi noi stasera parleremo la città e inviteremo tutti alla mobilitazione non solo per la verità sul porto, per conoscere la verità sul porto e su quello che sarà veramente il nostro porto, non più un porto commerciale dei grandi portacontenni come era nel sogno del sindaco Gazzolini ma sarà tutt'altro. E specialmente per Torre Gavettone vogliamo sapere la verità perché la maggior parte di noi da 30 anni anche più, intere generazioni hanno frequentato quella zona senza che nessuno ci avesse mai avvisato dei pericoli che si correva stando su quella spiaggia. Quindi noi stasera non solo informeremo ma formeremo coscienze che sicuramente domani avranno bisogno di risposte.